Ragazze, oggi è il grande giorno, Alice ha deciso... Siamo pronti? Quanto? Tanto! Che bello! Che bello! Ragazze, oggi è il grande giorno, Alice ha deciso... Si vuole fare buchi alle orecchie! Ha deciso lei, è venuta da noi, da mamma e papà e ci ha detto... Sono pronta, sono pronta per farmi i buchi alle orecchie, quindi noi l'accompagniamo. Gli abbiamo detto che comunque fa un pochino male, che sarà una pistola che gli sparerà appunto l'orecchino. Lei ha detto, va bene, va bene, sono pronta. E quindi niente, oggi andremo a fare questa cosa. Tanto fa subito! Tanto fa subito, non ti preoccupare, fa subito. E quindi aspettiamo papà Gerardo per andare oggi pomeriggio. Speriamo bene, io ho paura che lei se ne fa uno e poi dica no, 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 no. Arrivato pure papà Gerri, pronto? Per questo emozionante momento. Siamo pronti? Si! Quanto? Tanto. Ma zio, guarda che è un giorno importante, eh. Sì, ma zio, devo fare i scaricchini! Ma tu però l'hai deciso, eh, nessuno ti sta obbligando. Mamma mia. Tararara, qui c'è ancora la neve, il ghiaccio. Chiam, andiamo a vedere se ce li fanno, sennò dobbiamo andare in farmacia. Niente, praticamente il ragazzo che lo fa non c'è e c'è la settimana prossima. Quindi ora stiamo tentando due farmacie. Ragazze, forse abbiamo trovato… Gerardo mi sta prendendo in giro perché dice che sono disperata che li devo fare oggi ma non è quello è che comunque ecco questa qua dice questa fermate 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 e che comunque se non facciamo oggi non facciamo più l'abbiamo trovata raga io c'ho l'ansia cioè sono più emozionata mia figlia ma lì ci ha scelto la cottinella e si è 5 minuti neanche ma si dai forse è coraggio su ali non li vuoi più fare ferma 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 allora ragazze qui sono opere di convincimento perché lì si è fatta fare solo un buco ma ora andiamo a prendere un kinder buono lei è bravissima e coraggiosa e farà anche l'altro allora ora stiamo andando a comprare il kinder buono per il primo orecchino allora siamo qui da anche la farmacia pronte e ci sta mandando il kinder buono è pronta per l'altro bovino si 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 va bisuffa subito stira un po' sulla testa ecco firma firma ecco basta ecco 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 vai 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 ferma 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 stai ferma no ecco fatto allora visto che lì c'è stata brava ora andiamo a prendere un regalino un giacchino qua stanno qui non te lo toccare non te lo toccare sempre con le mani pulite eh dai scegli un giochino com'è eh ammazzo ti piaci sei contento amore sei stata proprio brava ciccia guarda un po' mamma mia le cozzinelle è vero che mi brucia è vabbè un pochino rosso però amore sei tranquilla vedi che questo è già diventato rosa si però eh però questo mi brucia però no però le lascio perdere si lasciali perdere e non li toccare va bene lascio perdere si non li soffio no 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 andiamo ad aprire il giochino che hai comprato va questo è il gioco che ha scelto Alice è una fragola quella è la fragola che gli ha dato l'amico nostro vai facci un bel caffè va si quindi Alice ora che hai questi orecchini lo consiglieresti alle tue amiche di farli no cioè tu a un'altra bambina gli diresti vai vai a fare gli orecchini ariana non se li vuole fare perché piange beh pure tu le pianti un po' però no non è vero no sei stata bravissima non è vero che ho piaciuto va bene comunque siamo mamma e papà sono tanto contenti perché sei stata proprio coraggiosa e brava la nostra bambina sta diventando grande non è vero va bene niente anche questo passo l'abbiamo condiviso con voi questo momento importante un bacione alle zie e un bacione ai piedi e un bacione ai piedi non me lo fate ciao 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 Grazie a tutti